Vediamo ora come avviene la gestione della classe o del corso, ricordandovi che il termine classe e corso in questo portale sono sostanzialmente dei sinonimi. Cliccando sul bottone corsi si apre una tendina nella quale vengono evidenziati i corsi o che io ho creato o ai quali io sono collegato. In questo caso io ho creato il corso Magia Virtual Classroom che sarà la classe virtuale di questo corso attraverso la quale potremmo continuare a rimanere in contatto qualora lo desiderassimo anche al termine di queste poche ore che stiamo passando insieme in presenza. Più in alto vedete che ci sono due bottoni, entra, ci apre un'ulteriore finestra che ci chiede un codice che è un codice che viene assegnato in automatico dal sistema che ci consente di aggregarci ad un altro gruppo o ad un'altra classe. Oppure troveremo il bottone Crea che ci consentirà di creare una nuova classe qualora lo desiderassimo. In questo caso io vado ad aprire sempre in qualità di docente il Magia Virtual Classroom cliccandoci sopra. Si apre una finestra diversa che però ha una visualizzazione sostanzialmente simile a quella precedente ed è la bacheca della classe. Potete notare che alcuni elementi sono comuni, ad esempio la parte di destra che riporta il calendario che io ho inserito a suo tempo, un compito che avevo assegnato che è costruire la classe e un questionario che si chiama Proviamo a facilitarci il lavoro. A sinistra notiamo che cambia l'immagine. L'immagine della mia home page era diversa rispetto a questa perché io ho cercato di personalizzare la nostra classe con un'immagine che mi pareva appropriata. In più vediamo che viene evidenziato il nome della classe e una brevissima descrizione che io ho sintetizzato con la parola Noi. Il bottone News, che è questo, ci consente di gestire la bacheca né più né meno come la bacheca della nostra pagina personale. Il bottone Membri è quello che evidenzia quali persone e quali membri fanno parte di questa classe. In questo momento la classe è attiva con tre persone. Io che sono l'amministratore del gruppo. Vedete che qui viene riportato anche il mio indirizzo di posta elettronica. Volpone Arianna, che è mia figlia, amorevolmente costretta a partecipare a questo giochino, per la quale viene evidenziato uno username ma nessun indirizzo di posta elettronica e si è registrata come studente. L'altra mia figlia, anche lei amorevolmente costretta, che si è registrata come insegnante e quindi per la quale viene evidenziato anche l'indirizzo di posta elettronica. Per ciascuno di questi membri della classe è possibile una gestione. Per lo studente abbiamo tre tipi di gestione. Lo studente può essere nominato amministratore del gruppo e quindi avere delle funzioni anche di coordinamento e di gestione della classe. Lo studente può essere eliminato. Lo studente può decidere di cambiare la password anche attraverso l'aiuto dell'insegnante. Per quello che riguarda l'altra persona che si è invece registrata come insegnante, sono possibili due sole azioni, l'eliminazione oppure la nomina come amministratore. Le risorse, cliccando sul bottone risorse, sono quelle che io ho deciso di condividere partendo dalla mia home page con una classe o un gruppo come vi avevo mostrato nel tutorial precedente. Le risorse possono consistere in file, in video, in immagini ma anche in cartelle, quindi in folder che possono essere organizzati a seconda delle attività che noi andremo ad inserire nel portale o con le quali vorremmo lavorare. E' possibile creare le cartelle direttamente da questa bacheca utilizzando il bottone Crea cartella. Cliccandoci sopra si aprirà un'ulteriore finestra nella quale inseriremo il nome della nostra cartella, una breve descrizione qualora lo desiderassimo, salviamo il tutto e la cartella viene creata o se non ci interessa chiudiamo la finestra di dialogo. Nel bottone, cliccando sul bottone strumenti didattici, vengono evidenziati gli strumenti didattici che l'insegnante ha già assegnato a questa classe e che quindi ha costruito e associato alla classe di riferimento. In questo caso, sempre giocando, io ho creato o assegnato un compito che è costruire la classe, cliccandoci si apre una finestra nella quale viene descritto brevemente che cosa chiedo ai miei studenti di fare. Provate a costruire una vostra classe virtuale, inventata o reale, seguendo questi passi. Creare il corso, aggregare i membri, assegnare un compito, utilizzarla, utilizzare la chat se possibile. Ho stabilito i termini di consegna entro il 5 maggio 2016, ho stabilito il tipo di votazione, giudizio letterale, ho stabilito il giorno in cui ho assegnato questo compito, il 22 gennaio 2016. Questo compito non è rigido, posso modificarlo, posso eliminarlo. Nel caso in cui io volessi aggiungere un ulteriore compito, non dovrò far altro che cliccare sugli strumenti didattici e aggiungere al repository, quindi alla bacheca sostanzialmente, cliccando su questo bottone aggiungere un compito o aggiungere un questionario. Tra gli strumenti didattici della classe esiste anche un questionario che si intitola Proviamo a facilitarci il lavoro, creato utilizzando il supporto di Questbase di cui vi ho parlato nel tutorial precedente. Anche in questo caso possiamo assegnare il questionario, cliccando su questo bottone scegliamo, possiamo dare una breve descrizione del compito che richiediamo, del titolo e del compito che richiediamo venga svolto, la data di consegna, il tipo di questionario, quelli che vedete qua nella tendina sono i questionari che io ho già creato utilizzando Questbase, la data di pubblicazione, lo chiudiamo oppure decidiamo di assegnare il questionario alla classe, in questo caso lo chiudo. Possiamo editare il questionario cliccando su questo bottone, apre una pagina esterna, un intervento esterno con Questbase e Questbase propone direttamente la pagina personale di ciascuno di noi che avrà fatto l'account sul portale nella quale verranno evidenziati tutti i questionari che già sono stati creati e questa è una funzionalità che vedremo in un secondo momento. Cliccando sul bottone info invece usciranno semplicemente le notizie che riguardano i dati salienti della classe. In questo riquadro qua sotto di colore verdolino viene generato automaticamente dal portale un codice casuale, in questo caso 509A-E7D6 che è il codice che è stato assegnato a questo corso. Chiederemo ai nostri studenti di registrarsi sul portale FIDEMIA e di aggregarsi al corso che noi abbiamo creato. L'aspetto interessante di questo portale, siccome abbiamo a che fare con dei minori, consiste nel fatto che lo studente può registrarsi come abbiamo visto prima nella schermata che ci evidenziava i membri, può registrarsi anche senza l'obbligo di indicare il proprio indirizzo mail, obbligo che invece sussiste per i docenti. La registrazione dello studente avverrà semplicemente aprendo la pagina principale del portale FIDEMIA e cliccando su registrati gratis. Si aprirà una schermata nella quale ci si chiede se ci si registra come professore, come studente, come genitore o come istituto. Noi faremo l'iscrizione come studente. A questo punto la prima cosa che verrà chiesta è il codice del corso. Il codice del corso in questo caso è 509 A maiuscolo trattino E maiuscolo 7 di maiuscolo 6. Verrà richiesto il nome dello studente e io inserisco naturalmente un'altra delle mie figlie. Viene richiesta la data di nascita, il sesso, uno username, la mail è opzionale quindi non la mettiamo e la password con la quale si entrerà nel sistema. La password come sempre viene richiesta due volte per conferma quindi va ridigitata. Dopodiché bisogna autorizzare il trattamento dei dati personali e dichiarare di avere preso visione delle condizioni dell'utilizzo del portale. Si clicca sul tasto registrati e la registrazione a questo punto è avvenuta con successo. Vedete che automaticamente si apre il portale del nuovo studente. Si apre sempre con un messaggio di benvenuto che in questo caso non stiamo a leggere e lo chiudiamo cliccando sulla crocetta. Questa è la pagina personale di questo nuovo studente che andando a controllare sul portale invece del docente troveremo già inserito nel nostro corso e di cui troveremo notifica cliccando sulla campanella. Vedete che automaticamente nel momento stesso in cui Diletta ha effettuato l'iscrizione alla classe virtuale viene mandata una notifica all'amministratore del corso dicendo guardate che c'è un ulteriore membro nella vostra classe. A questo punto io vado a cliccare sui membri e come potete notare mi è comparso un membro in più Volpone Diletta che si è registrata come studente e per la quale posso utilizzare tre tipi di operazione. La nomina di amministratore, l'eliminazione oppure la modifica della password esattamente come avviene per l'altro studente. La differenza tra i due, tra questi tre nuovi utenti è che questi due si sono registrati come studente e quindi non hanno avuto necessità di indicare la password. Camilla invece si è registrata come insegnante e quindi ha dovuto inserire il proprio indirizzo di posta elettronica. Scusate, anche loro hanno semplicemente, non hanno dovuto inserire l'indirizzo di posta elettronica.